Ciao bimbi! Ci ritroviamo per una nuova storia di quelle che contano, per divertirsi con i numeri. Un mondo senza numeri. Simone non ne poteva più della matematica, detestava le complicatissime operazioni di algebra che la maestra gli affidava come compito a casa e ancora meno gli piacevano i difficilissimi problemi che facevano girare la sua testolina bionda come un frisbee. Ma la cosa più odiosa di tutte erano le tabelline. Odio i numeri, vorrei tanto che sparissero, pensò una sera subito prima di addormentarsi. Guarda un po', la fatina dei desideri passava di lì proprio in quel momento con il suo cappello a punta e la sua bacchetta scintillante. Ogni tuo desiderio un ordine, disse dato che era un po' raffreddata. Il giorno seguente Simone portò a casa, orgoglioso, la nuova maglia della sua squadra di calcio. Con tanto, tanto impegno era finalmente riuscito a diventare un centravanti. Il bimbo sedette su una panchina per ammirare il grande numero nove stampato in giallo sulla sua bella maglietta, ma quando la tolse dalla sacca il numero era scomparso. Eppure era proprio qui, disse incredulo. Dopo un po' il suo stomaco cominciò a far rumore. Che fame! Mi comprerò un panino con le mie due monete. E gli venne subito l'acquolina in bocca pensando ai croccanti panini al formaggio del forno al di là della strada. Allora infilò una mano in tasca in cerca delle monete. Ma la tasca era vuota. Eppure ne avevo due. Simone ne era sicuro. Così decise di tornare a casa, entrò nel palazzo e poi nell'ascensore. Guardò i pulsanti per pigiare quello del settimo piano, ma anche lì tutti i numeri erano spariti. Simone corse via spaventato, ma non riusciva a trovare l'autobus numero 17 per andare a casa di suo zio. E non poteva neanche chiamare i suoi genitori perché dai tasti del telefono erano scomparsi tutti i numeri. Basta, voglio che i numeri tornino indietro, gridò disperato. Ogni tuo desiderio un ordine. E ciù, rispose la fatina dei desideri che passava di là e aveva ancora un brutto raffreddore. La mattina successiva, quando si svegliò, Simone saltò giù dal letto. Dalla sua scrivania c'era il libro di matematica aperto alla pagina delle tabelline. Simone tirò un sospiro di sollievo. Mi piacciono tanto i numeri, disse alla mamma sorridendo. E se siete stati così curiosi e attenti, vi do appuntamento al prossimo venerdì.